Ti posso raccontare di Favijay, visto che ormai è il più grande canale italiano. Vado a Milano e incontro in un bar, perché non avevo un ufficio. Favijay ha 17 anni, mancano pochi giorni e 18, quindi si presenta con suo papà. Quanti numeri avevano in quel momento? Farci capire. Allora, Favijay 10.000, oggi ne ha 5 milioni e mezzo, eh. Iscritti. Iscritti al canale. Gli spiegavo cosa sarebbe successo da domani. Gli ho spiegato che loro erano un media, che sarebbero diventati un canale di comunicazione. Avremmo fatto molte altre cose, quindi gli mostro tutto un altro. Uno scenario. Loro questa cosa non la vedevano. E Favijay mi dice, se il solo 50% di quello che mi dici, non dico il 90%, se il 50% di quello che mi dici è vero, è un sogno per me. E lo è stato al 500%. E ha stra funzionato. L'ospite di oggi è un imprenditore di successo, che nella vita ha saputo riconoscere il momento giusto per sterzare e cambiare rotta. È fondatore e CEO di Webstar Channel, una vera e propria fucina di creators, cioè ragazzi con talento che fanno numeri impressionanti su YouTube, ma non solo, come vedremo. La sua società gli aiuta a crescere, gli dà gli strumenti per far sempre meglio e ovviamente si occupa di intercettare le opportunità commerciali. Perché la sua storia è molto interessante? Perché ha avuto più vite professionali, con alti e bassi incredibili. E con due fasi molto precise, una prima del web e una dopo. Nella prima vi racconterà la vita di un manager di personaggi televisivi, mestiere che ha fatto per tanti anni. Non c'erano i social, non c'erano youtuber. Poi un giorno l'incontro con un ragazzino di caserta, che faceva su YouTube degli scherzi telefonici, gli ha fatto mettere tutto in discussione. Quel ragazzino era Frank Matano. Abbiamo parlato parecchio, quindi vi presentiamo due puntate. Nella prima c'è il periodo della TV. Nella seconda parte l'intuizione degli YouTuber, lo scetticismo di tutti, fino al riscatto a una nuova carriera. Io sono Edoardo Scognamiglio. E io sono Federico Favot. Anche oggi siamo in Your Room, un co-working di Milano, che ringraziamo per farci da base le nostre interviste. E siamo pronti ad accherare la creatività di Luca Casadei. Ciao Luca. Piacere di essere qui. Ciao. Allora, senti, ho letto un'intervista bellissima su Vanity Fair, che ripercorre un po' tutta la tua carriera. Ho detto, ma questo è solo di qua fede, è un romanzo, no? È successo di tutto, no? Quindi ti va di raccontarci le tue tre vite professionali? Io lo dividerei così, questa chiacchiera. La prima, dimmi se sbaglio, parte con la TV. C'è un pezzo prima. E prima vendevo spazi pubblicitari, quindi sono arrivato da Parigi a 17 anni e mezzo, diplomato, parlavo un italiano terribile, cioè casalingo, non l'avevo mai studiato. Ah, perché tu sei nato in Francia? Sono nato a Parigi, sì, ho studiato lì. E quindi ho imparato con il T9, che c'era ai tempi, e le doppie, perché essendo la mia prima lingua il francese facevo fatica a scrivere l'italiano, quindi ero un po' analfabeta. E lavoro con mio nonno in una concessionaria di pubblicità, mi insegna un po' il linguaggio del lavoro, il rapporto con il cliente, cosa tu devi mettere a cospetto di un cliente per fare business. Lui viene a mancare quando ho 19 anni, quella sera, quindi ero abbastanza, avevo bisogno di un'energia completamente diversa quando c'è stata la notizia, vado in un locale e vedo una ragazza... Di Milano? All'old fashion Milano, vedo una ragazza che massacra di botte uno, ma non una sberla, lo massacra di botte. Questa cosa mi ha scioccato, perché non è una cosa che vedi tutti i giorni. Quindi sono andato poi a letto, dopo la serata, e la mattina dopo ho detto voglio aprire un'agenzia di sicurezza femminile, la prima in Italia, la chiamo Angel Security. Se tu sono 19 anni, arrivi in Italia, vai in una discoteca per divertirti, vedi questa scena e dici mi invento, faccio un'agenzia di sicurezza. La mattina dopo ho cercato di utilizzarla a vantaggio di un'idea e parlo con un mio amico che si chiama Aurelio Colucci, lavorava in Parole d'Intorni, l'ufficio stampa di Giovanotti ai Tempi e gli racconto questa cosa. Lui chiama Alberto Traversi, un giornalista della Repubblica, e mi fa un trafiletto, quindi ne parla. Ne parla come se esistesse tutto, invece era tutto nella mia testa. Lì mi chiama, così com'è, con le cuccarini su Telepiu, è verissimo, è verissimo, mi dice sabato veniamo a farle un'intervista. Per parlare di questa agenzia? No, per venire a vedere le sue ragazze in un locale dove lavori, ho detto non c'è problema. Non ce l'avevi. Quindi avevo tre giorni per trovarle. Non ce l'avevi. Non ce l'avevo, non avevo niente, quindi in tre giorni vado in una palestra dove facevo pugilato, a Milano all'Accademia Europea, cerco due ragazze che fossero più o meno in linea, anche eticamente, cioè che fossero raffinate, non buzzurre, insomma. Compro dei bomber, li faccio customizzare, compro le radioline, tutto perfetto. E dico anche al locale, a un mio amico, mi trovi un locale, al locale fai finta di conoscermi da tempo. Quindi abbiamo messo giù questa... Cioè loro dovevano fare sicurezza nel locale, tipo il bodyguard che vedi, invece l'uomo negrosso, la tua idea era uso delle ragazze. Uso delle ragazze che sanno ovviamente gestire una situazione, ma soprattutto parlare, quindi far andare il cervello. Uso queste due ragazze, facciamo l'intervista con Verissimo, io avevo un R un po' francese, c'ho ancora la tua chiesa, e da lì si apre un mondo. Quindi da lì mi chiamano locali, mi chiamano organizzatori di concerti, mi chiamano politici per fare scorta femminile a questo mondo. Dopo un anno vendo tutto. Una persona mi compra l'idea, non avevo registrato il marchio, e io ho in mano, posso dirlo perché poi c'è stato anche un condono, ho in mano 100 milioni di lire, ho 20 anni. Quindi con quei 100 milioni io devo decidere che fare. Nel frattempo però, quando io portavo la sicurezza perché quel locale, il Cadillac Caffè in Vialodovicchio il Moro a Milano dove ho fatto l'intervista con Verissimo, ovviamente era molto felice di ciò che era accaduto. Quindi mi dice, ma sai io il mercoledì uso due cubiste, un uomo, una donna, li avresti? Certo che li avrei. Quindi stessa sfida della sicurezza. Non ce li avevi. Ovviamente no. Anzi, all'inizio, e sono appena arrivato, non sapevo niente, quindi compro seconda mano e mi arrivano escort in ufficio. E ho detto, magari non è il caso, allora chiedo all'amico dell'amico 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 dell'amico, insomma mi presento il mercoledì con queste due persone. Quindi dall'agenzia di sicurezza passa agenzia di cubiste? L'agenzia di spettacolo, tra cui cubiste, quindi fondamentalmente quando dopo un anno vendo, faccio quello. Quindi la chiamo Luca Casadei Management. Mi ricordo la prima brochure, tamarrissima. Scusa, ridini, brochure, come lo dici? Brochure. Mazza che si sente l'accento francesino. E quindi fondamentalmente da lì parte una nuova era. Il primo locale era un pub a sondalo, visto che tu conosci bene la Valtellina, si chiamava Meridiana e la gente andava a ballare con il casco sotto braccio, non lo mollava in guardaroba, lo teneva e parlavano un italiano molto particolare. Io facevo veramente fatica, magari per il fatto che fossi in Italia da poco. E quindi da lì comincia tutto. Da lì comincia tutto, poi a un certo punto prendo due raccoglitori. Avevo un mio amico, un modello, Adolfo, che purtroppo oggi non c'è più, e gli dico mi porti composite di ragazzi e composite di ragazzi. Compro un raccoglitore blu. Composite sono il book, tipo le foto. Ma è un cartoncino formato A5, dove hai la foto grande su un lato con il tuo nome e quattro foto più piccole dietro, almeno 25 anni fa era fatto vedere, se non so se esista neanche più, prendo un raccoglitore rosso, metto tutti i composite delle ragazze, un raccoglitore blu e metto quelli dei ragazzi e chiedo a lui, ma perché non mi aiuti a fare il commerciale a prendermi degli appuntamenti? Un giorno mi dice abbiamo un appuntamento in un locale che si chiama Stop Line e lo Stop Line di Curno aveva 18 sale, aveva una ruota panoramica, aveva 18 sale con 18 generi musicali diversi, era un luna parca al chiuso. Questa persona, quando vado all'incontro, vi risulta simpatico e mi dice proviamo a Pasqua, ti prendo 14 persone. Pasqua era nove giorni dopo, ovviamente non avevo le 14 persone. E gli ha detto non c'è problema. Ovviamente vendo sempre il non c'è problema. No, gli ha detto non c'è problema. E quindi arrivo e porto queste persone. I cellulari è un tempo, io avevo un Gemini che era un mattone con un'antenna rigida, quindi avevi la 24 ore per portare il cellulare e quindi io avevamo trovato diciamo su 14 sei ragazze degne di nota, molto carine, quattro medie e quattro impresentabili, però non ero riuscito a fare di meglio. Quindi che cosa succede? Ma come le cercate ste ragazzi? Amici di amici, andavamo a casa di gente alle 10, alle 11, a mezzanotte, veramente era da filmare quel momento lì, è stato interessante, mi presento e ovviamente lo scopo era non mostrare perché era la nostra serata di prova quelle quattro un po' incerte. Quindi lui Adolfo rimane fondamentalmente vicino, lavoriamo solo su una sala, lavora sui cambi e io giro il locale con il proprietario, quindi quando io stavo per arrivare nella sua zona, gli facevo uno squillo e lui faceva scendere le incerte e quindi hanno fatto quadruplo turno quelle più carine. Lui mi conferma e mi dice per la prossima settimana ne porti 100 e lì sarebbe stato veramente interessante filmare tutto quello che è accaduto. Che sono tra l'altro anche lì tanti soldi, era un contratto, un lavoro importante. Sono stato sicuramente sempre nella vita penso fortunato, mi ritengo un ragazzo fortunato, quindi è vero la capacità, è vero che c'è la legge dell'attrazione, se sei positivo attrai positività, ma penso di essere un ragazzo fortunato. Quindi penso che nella vita ti arriva sempre un'occasione importante, l'importante è coglierla e capitalizzarla, quindi fare in modo che questa cosa faccia eco e ti costruisca molte altre cose. E scusami, le 100 le hai trovate? Le ho trovate. Abbiamo strapagato, quindi ci ho rimesso soldi quella sera e ci ho messo un mese per prendere il ritmo, quindi per cominciare a trovare il mio team giusto. Da lì faccio appunto la mia famosa brochure, c'era una fiera a Rimini che si chiamava Sib, non il Silbi, il sindacato italiano dei locali da Vale, Sib, era la fiera più importante delle discoteche che c'era, poi c'era anche il Nightwave che hanno creato successivamente e io faccio il mio primo stand, quindi stavo guadagnando tanti soldini, faccio il mio primo stand e comincio a diventare un'agenzia. E da lì prendo un locale a Ginevra, si allarga, lo faccio per tanti anni, vendo dopo molti anni, ma prima di vendere, dieci anni dopo circa, capisco che l'animazione fondamentalmente era un qualcosa che non portava gente, tu facevi parte dell'arredo, riparte dell'estetica del posto, ma non eri un valore aggiunto per il posto, quindi avevo il senso di perita tutti i giorni, basavo tutto sulle mie relazioni con i miei clienti, ma potevano lasciarmi a casa dalla sera alla mattina. Allora comincio a pensare ai format, la prima cosa che faccio è fare il tour di Playboy, quindi vado da uno dei licenziatari di Playboy, ce ne sono un'infinità come Lochitti, e faccio il tour di Playboy, quindi prendo in licenza il marchio per un anno e prendo alcune mie ragazze e diventano le Playmate, faccio dell'allestimento, faccio un format, quindi sono arrivato dopo pochi mesi a fare il sabato sei date contemporaneamente, quindi con 18 persone, tre in ogni posto, sei allestimenti e funzionava. In che anni siamo, scusami? Eh, questa è una bellissima domanda. Più o meno, più o meno. E ho paura di darti una risposta sbagliata, potrebbe essere 2005. Ok. La cosa che faccio successivamente è andare dal proprietario del marchio Compagnia delle Indie, fare le modelle della Compagnia delle Indie, dove ha esordito Melissa Satta prima di fare televisione e così via. Funziona molto bene, ma avevo due format femminili, quindi dico devo inventarne uno maschile, e invento il calendario dei modelli più belli d'Italia, dove esordisce... Non esisteva. No, non esisteva, l'ho chiamato The Saints e avevo dentro nel primo anno Costantino, prima che facesse televisione, Daniele Interrante, quindi tutta una serie di volti che poi la televisione italiana più commerciale, vedi uomini e donne, i reality, ma soprattutto uomini e donne hanno cominciato a volere quel genere di volto. Cioè tu hai individuato quel tipo di personaggio... Il bello dannato che sapevo che stava andando sempre di più. Lo notavo nei locali, vedevo proprio la, come dire, la reazione del mondo femminile. Quindi alcuni di questi, anzi prima di loro, un ragazzo va a fare il corteggiatore. Da uomini e donne. Ok. Va a fare il corteggiatore, un altro nel mio calendario fa il corteggiatore, quello che fa il corteggiatore dice guarda che ti voglio presentare uno che sta diventando tornista, quindi gli mettono i galloni, sta per essere promosso. E allora stavo cominciando a sentire parlare di una cosa nuova. Dici la tv. Lì ti si è accesa la lampadina. Lì mi si è accesa la lampadina. Il primo della classe in Italia era Lele Mora sul mondo delle serate, era in assoluto il più forte, perché aveva i personaggi più attinenti a quel mercato lì. Quindi parliamo di saranno famosi prima che fossi amici, cioè lui è partito all'inizio di tutto. Quindi io cerco di capire il suo meccanismo e di colmare delle lacune, quindi di creare una rete vendita creando una strategia per cui il mio rappresentante della regione, cioè se un personaggio costava 10 euro, lui non doveva venderlo a 11 perché il proprietario a un certo punto sarebbe poi venuto da me per risparmiare l'euro, ma doveva venderlo alla mia stessa cifra, io riconoscevo a lui e il proprietario aveva la possibilità di parlare con una persona in loco con cui poteva dialogare, mentre io era a Milano quindi era più complicato. Facciamo più o meno mille date dopo un anno e mezzo, quindi creo un network molto interessante che cresce molto velocemente, ma sono succube di non avere il management. Quindi lavoro con tutti questi personaggi all'inizio solo per le serate, ma poi quei personaggi avevano dei manager e quei manager si portavano in dote tutti i diritti, quindi andavo a trattare con i manager, a un certo punto mi sono chiesto ma questo doppio passaggio che poi diventava quasi, non era tanto una questione economica, era una questione di fluidità, era molto macchiavellico, quindi a un certo punto dico devo cominciare a esordire come manager e arriva appunto, l'hai citata prima, la chiamata di Riccardo, Riccardo Schicchi. Ti ha chiamato, cosa ti ha detto? Perché io incontro Riccardo qualche mese prima e gli chiedo se, perché ho l'intuizione di portare Rocco Siffredi nei locali, dico Rocco è iconico, quindi lascia stare il mondo da cui proviene, è iconico, è come dire, è un mito per il mondo maschile ma anche femminile, quindi lui che era in quel mondo lì mi racconta, mi dà delle risposte rispetto alla mia registra. Il mondo dell'eros, del porno, Schicchi era regista, imprenditore. Sì, è stato uno che ha portato Mona Pozzi in Parlamento come cicciolina, quindi direi che è una persona che aveva una grande visione, ma per assurdo lui mi ha insegnato tutto nel management, perché per tutti era l'uomo del porno, ma lui invece era l'uomo della strategia. Lui si è messo in un mondo che non era niente per nessuno e ha creato un impero, cioè lui ha creato veramente un impero ed era un uomo molto colto, molto intelligente, molto rispettato da tutti gli interlocutori nel mondo dei broadcast, della televisione tradizionale. Come ti chiama e ti dice? Allora, lui era malato di diabete purtroppo e si stava aggravando, quindi a un certo punto mi chiama e mi dice Luca, quindi si vede che o nutriva simpatia, sì, ma non lo so, però vedeva che io avevo voglia di emergere, ma ancora non avevo avuto la mia occasione per farlo. Mi dice un appuntamento con Alberto Salaroli, quindi produttore esecutivo di Striscia, il braccio destro di Antonio Ricci, per portare Eva Enger in prima serata, in primetime, su Canale 5, il sabato sera con Paperissima. Quindi era qualcosa di… Tanta roba. Tanta roba, perché lei arrivava da quel mondo, dall'altro mondo di cui parlavamo prima, e lui mi dice vai all'appuntamento al mio posto, io non ce la faccio fisicamente a muovermi. Ah, ok. Vai tu? Vado. E quindi la verità è che si è chiuso tutto, ma si è chiuso per merito di Riccardo, perché c'era già la volontà di volerlo fare. Io sono andato a discutere di soldi, avendo tra l'altro dei parametri che mi aveva dato Riccardo, sono andato a discutere di tutti quelli che erano i particolari. Riccardo mi dice, bravo, prenditi tu i meriti nei confronti del mercato, da questo momento in poi comincia una tua nuova carriera. Fermo, allora hai fatto, quindi siamo già la terza professione, prima agenzia di sicurezza femminile, poi agenzia di animazione per le serate, da questo incontro, da questo appuntamento in cui sostituisci Schicchi con Mediaset inizia la tua terza vita professionale, con la tv diciamo. Esattamente, quindi lì comincia tutto e capitalizzo questa cosa. Quindi Casa Day era quello che aveva portato dal mondo dell'hard alla prima serata su una rete generalista per i bambini Eva Enger, quindi aveva fatto eco. E quindi da quel momento in poi molti personaggi hanno cominciato a essere, perché prima quando mi approcciavo a un personaggio per il management mi guardavano per dire, ma tu chi cazzo sei? Sei quello che vende le serate in discoteca, quindi non ero molto credibile, avevo bisogno di avere il mio galloncino, il primo per… e quindi ho capitalizzato questa cosa, poi ho cominciato a lavorare con tutta una serie di personaggi adesso in scala, non me li ricordo. Ci fai degli esempi, cioè diventi il manager di chi in quel periodo? Subito dopo Eva di Giulia Montanarini, abbiamo fatto la fattoria, questo lo ricordo molto bene, e poi ne sono stati tantissimi perché il mondo della televisione commerciale purtroppo, soprattutto i reality, tu sei il nome proprio di quell'edizione, come un numero di matricola carceraria, cioè non è più un nome, è un cognome. Cioè tu seguivi… Grande Fratello, tutto quel mondo lì. Ok, tutti i personaggi che uscivano dal Grande Fratello, uno, due, tre, quattro, cinque… Sì, diciamo che ho cominciato soprattutto dal sesto, a lavorare assiduamente, quindi a mandare loro a far vedere a Dendemol nella fase di casting, quindi dei volti, e poi a prenderne alcuni che non avevo mostrato quando uscivano. Scusami, per far capire, perché ci ascoltano veramente tanti ragazzi giovani… Vuoi che ti spieghi il meccanismo? No, 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 per fargli capire in che ambito siamo. Siamo in un periodo in cui gli influencer, i creators… Non esistevano, assolutamente no. Neanche i blog. Neanche i blog. Tutto prima. Tutto tv era, sostanzialmente. In quel periodo, adesso non voglio entrare nel tema web, però per far capire chi è più giovane, in quel periodo chi usciva dal grande fratello era un po' quello sulla cresta dell'onda, l'influencer popolare di adesso, giusto? Come parallelismo. Assolutamente era colui che in una discoteca, ovviamente la riempiva perché portava a pubblico, per un brand, era colui che faceva comprare una marca, intendo, per un brand, quindi che fosse pigiami, fitness, underwear, beachwear, qualsiasi cosa. L'importante era parlare al target del brand stesso, ma avere come testimonial uno di loro che in quel momento non si parlava di altro, era una super affissione nel senso metaforico del termine, quindi si vendeva tanto. La stessa cosa valeva in determinati programmi tv, dove comunque alzava l'indice di share, perché prima c'erano… Avere i personaggi che sono usciti da… Sì, perché erano molto chiacchierati. Noi cercavamo di essere bravi nel non prendere tutto, ma nell'individuare magari anche uno, massimo due di un programma, ma i volti che potevano proseguire nel tempo. Poi proseguire nel tempo voleva dire superare il primo trimestre, perché poi più reality e più programmi commerciali c'erano in tv e come ti dicevo prima tu eri Jessica, adesso ho detto un nome a caso, del Grande Fratello Otto, quindi non avevi neanche più un cognome. Avevano una curva di popolarità molto breve, no? Cioè appena usciti… Più sono andati avanti gli anni all'inizio, i primi Grandi Fratelli dove non c'era ancora la Talpa, la Fattoria, la Pupa e il Secchione, tutti quei programmi molto nazionalpopolari. Quindi il Grande Fratello, quando c'era il momento Grande Fratello, lo dice anche l'indice di ascolto, lo share che faceva, era enorme, quindi avevano una popolarità pazzesca e duravano. Poi se quello durante il Grande Fratello c'era un po' di gossip, si fidanzava, tradiva, ovviamente era quello il talento in quel momento, in quei programmi, no? E quindi cercavamo di individuare dei volti che parlassero un buon italiano, perché poi per reggere una carriera magari è un po' grande come termine. Ma che durava qualche mese questa popolarità. All'inizio anche uno o due anni. Uno o due anni, cioè Cristina del Grande Fratello 1. Quelli del Grande Fratello 1 erano, voglio dire, i conici. Erano tutti nell'estare, sì, lo sono rimasti per dieci anni. Però Jessica del Grande Fratello 7, dopo quanto calava la popolarità? Beh già quando eravamo al Grande Fratello 7. Ora veramente un fenomeno poteva durare un annetto, ma se no ti devo dire che verso il 2009-2010 come periodo duravano tre mesi, quattro mesi. I programmi paralleli al reality, quindi che ne so, il pomeriggio 5, la domenica di Canale 5, tutti quei programmi che a un tempo c'era l'Italia sull'U, non mi ricordo come si chiamava, su Rai 2, non mi ricordo più. Tutti quei programmi all'inizio ovviamente portavano questi ospiti per fare ascolto e dopo non ti pagavano neanche più, cioè dopo ti dicevano che questi personaggi, avendo visibilità, riuscivano a fare le serate, cioè quel mercato non esisteva più, cioè non c'era più un ecosistema economico, si era sgrettolato. Sudo, posso aprire il momento aneddoto? Tu ti ricordi come ci siamo conosciuti? Fammi riflettere. Eravamo al freddo in un locale di Milano, non era l'all fashion, era un altro. Aiutami. Te lo racconto, vedi, te lo sei dimenticato. Allora, io era un periodo che, in questo periodo qui, io facevo le Iene, no? Ti ricordi come autore? E stavo seguendo un format che si chiamava i VIP rimbalzati. Certo che mi ricordo. Adesso ti si aprono nelle finestre. Laura Gauthier. Con Laura Gauthier che era l'Iene. Ok, adesso lo ricordo. Per chi non l'ha visto. Al Tocqueville. Al Tocqueville. Ecco, adesso mi inizio a ricordare le cose. Se mi calzi arrivo. Allora, il format qual era? Tutti sappiamo come funzionano le discoteche, no? Che se sei una persona normale, c'è il bodyguard che non ti fa entrare. Ti metti in fila, sei un privilegiato, passi subito. Se sei figo, sei uscito dal Grande Fratello, se fai parte di quel mondo lì, entri. Insomma, ti salutano e ti fanno entrare. Abbiamo ribaltato un po' il meccanismo. Per cui tutti quelli normali entravano. Arrivava Jessica, il Grande Fratello 7, o Nina Moritz, insomma, chi c'era. E la nostra attrice, che faceva parte della Door Selector, la bloccava. E per un VIP, chiamiamoli così, essere bloccato davanti al discoteca è come se gli uccidi la madre. Certo. E cosa succedeva? Che ovviamente Luca, in quel periodo, seguiva molti di questi personaggi, per cui magari era anche presente in questi locali. Quindi eravamo complici di questi scherici. Io sono uscita, io ho fatto 31 giorni all'interno della casa del Grande Fratello e tu non mi fai entrare? Le motivazioni loro erano esilaranti, ma poi alla fine, cioè io sono nato a Parigi e quando ho spiegato ai miei amici di Parigi il lavoro che facevo in quel momento, mi dicevano, cioè tu mi stai dicendo che pagano i tuoi personaggi per andare nei locali? Ma in Francia i personaggi sono ricchi e pagano loro l'ingresso e prendono un tavolo, se no non entrano. Quindi noi in Italia siamo completamente… Al rovescio. Sì, al rovescio in tutto. Quindi questo mondo superficiale è proprio il motivo per cui l'ho lasciato. Nel senso che loro erano persone molto capricciose che ti facevano fare una grande fatica, ma per non costruire nulla, perché dopo appunto un trimestre, un semestre, tutto finiva. E lì il tuo lavoro, la tua quotidianità qual era diciamo come manager, come funzionava? La mia quotidianità era… facevo fondamentalmente sempre la meretrice, quindi con loro per comincerli a firmare con noi, con i clienti per comprarli come testimonial, con le case di produzione per mettere un personaggio nel programma o per andarlo a prendere dopo, ero a contrattare tutto il giorno, quindi ero sempre sul marciapiede. Però era interessante perché c'era un buon ritmo e perché si concretizzavano cose, però non è che mi sentissi sprecato, sentivo che non stavo costruendo. Costruivo una cosa che si demoliva dopo, non per un cattivo lavoro, perché ero entrato in un mondo che aveva delle fondamenta molto fragili, perché non c'erano le basi, ma anche il mercato che aveva fatto così. Ma perché non c'è il talento? Una persona che ha talento è molto difficile che cada, o impazzisce dalla sera alla mattina, ma una persona che ha talento è una persona soprattutto che è creativa, visto che questo è l'argomento di cui parliamo oggi, si reinventa sempre, trova sempre un modo per andare avanti e cadere in piedi. Quindi in quel momento comincio pian piano ad allargare e andare a lavorare con dei personaggi un pochino più, più che un pochino, molto più profilati. Ad esempio? Ma ad esempio con Barbara D'Urso, con Simo Raventura, con Belen, con Matteo Viviani, con la Santarelli, quindi persone... Anche persone molto più noti delle ragazze e dei fratelli. Cominciando con un approccio non manageriale in modo totale, con alcuni sì e con altri no, ma cominciando a lavorare con loro, anche a capire esattamente come loro ragionavano, quindi erano molto più complessi nella fase di trattativa e molto professionale nella fase esecutiva. Una volta che prendevi un accordo con loro per qualsiasi cosa, tu lavoravi veramente con un professionista, non avevi bisogno di ricordargli nulla. Barbara D'Urso è stata una pazzesca da quel punto di vista, una macchina da guerra. La trattativa più complessa che hai fatto? Te la ricordi in quel periodo? Ma le trattative più complesse che facevo non erano con loro, ma con quei personaggi... Adesso ti avevo detto prima dell'intervista, non mi far parlare male di nessuno, invece tu sei bastardo che ci stai portando. Diciamo che quello che mi faccia fare più fatica era far ragionare questi ragazzi che uscivano dai reality che dopo tre mesi, sei mesi si sentivano. Il problema è la vita mondana. Nel mondo mio attuale di cui parliamo dopo sono ragazzi che non vanno in discoteca, cioè sono persone che si guardano una serie, stanno tra amici, suonano uno strumento, guardano video, fanno qualcosa dove coltivano tutti i giorni le loro passioni. Un personaggio che esce da quei programmi commerciali esce tutte le sere, tutte le sere uno per conoscerti dice passa da me domani che ti faccio fare un film, ma come mai ancora non sei andato sul palco di Sanremo? Cioè tu hai tutte le capacità, quindi non capivano, non riuscivano a distinguere. Che non avevano un talento. Che non avevano un talento e che erano aizzate da queste persone frivole, che poi alla fine io gli rispondevo sempre ma presentati all'incontro, prendi i biglietti da visita e dili facciamolo con piacere. Non succedeva mai, quindi gli eruttava il cervello in modo sbagliato a questi ragazzi ed era quella la cosa. La trattativa più difficile era farli ragionare, renderli disciplinati, professionali, avevano preso degli impegni, c'erano degli shooting, c'erano delle cose. Che non rispettavano magari. O facevano i capricci, mi ricordo, non ti faccio il nome, una persona che mi ha chiesto una caratura di macchina più elevata perché lui si sentiva a disagio ad andare con una berlina bella, ma voleva una macchina che usa oggi un NCC e se ti faccio il nome ridi ancora di più perché non collimano le due cose e quindi mi sono un po' stancato. Quindi ho cominciato a lavorare con questi personaggi ma poi alla fine questi personaggi mi hanno allungato un pochettino il piacere di fare quel lavoro ma tutto quello che ho fatto fino a quel momento compreso ma dal giorno 1 che ti ho raccontato prima l'ho sempre portato a cospetto dell'esperienza successiva. Durante il periodo televisivo ho aperto anche delle società satellite quando ha cominciato a funzionare sempre meglio il product placement nel mondo del cinema quindi ho aperto una società che faceva solo ed esclusivamente quello quindi lavorava con le produzioni lavorando già con i brand dannogli dei testimonial ho allargato ho aperto una società di produzione che si chiamava Quattro Assi dove producevo solo poker quando il poker in quel momento poker 1 mania su Italia 1 quando il poker in quel momento era molto in auge c'era su Sky un canale dedicato poker Italia 24 il poker era qualcosa di mainstream non era gioco d'azzardo era poker sportivo quindi ho sempre cercato di trovare delle sfaccettature del mondo che presidiavo per comunque fare business è il mio lavoro faccio questo in questo percorso che ci hai raccontato c'è sempre stato un momento una suggestione una chiamata un fatto che hai visto in discoteca quella che la ragazza che picchia è un ragazzo c'è sempre stato un fatto che ti ha fatto accendere una lampadina per dire posso sterzare un'altra volta sei in tv abbiamo capito lì che indizi hai ricevuto che ti hanno fatto dire forse c'è il web forse c'è qualcos'altro c'è stato un fatto ma guarda molto semplicemente c'erano due cose in quel momento c'era The Blonde Salad quindi il blog di Chiara Ferragni quindi un blog che era solo il blog che era solo il blog ed era molto interessante il modo in cui raccontava di un mondo che comunque padroneggiava dove c'era dentro dell'entusiasmo della passione non c'era dentro un approccio da professoressa quindi era molto cool chiunque poteva capire quello di cui stava parlando e poi all'attere c'era Twitter e Twitter in quel momento i personaggi cominciavano ad usare Twitter quindi prima di Facebook prima di qualsiasi cosa dopo MySpace ma che era un mondo differente esiste Twitter Barbara D'Urso comincia a performare ad avere dei numeri molto interessanti su Twitter fatto da lei da sola così assolutamente la Santarelli uguale con i personaggi con cui in quel momento stavo lavorando iniziano a e quindi fondamentalmente dico ok facciamo così utilizziamo facciamo un vero lavoro di cross promotion sono tutti termini che oggi sono molto semplici ma un tempo era aramaico quindi gli ho detto perché non apriamo un blog verticale su un target molto preciso quindi con Barbara gli ho detto qual è il tuo nome di battesimo Carmelita lo chiameremo Carmelita e tu che hai 56 anni in quel momento mentre lo abbiamo fatto secondo me ogni donna che ti guarda vorrebbe sapere come fai tu essere così a 56 anni così in forma quindi mi fai entrare nella tua vita dove mi fai vedere cosa mangi quanto dormi come ti alleni dove ti alleni mi fai vedere tutto ciò che la gente non vede tutto ciò che non è in tv e lei mi dice ok quindi facciamo insieme un sito facciamo un blog dove utilizziamo il social quindi twitter per portare traffico sul blog quindi fondamentalmente mettavamo che ne so un copy quindi un titolo molto breve accattivante che era poi l'argomento e poi la stringa quindi l'url per andare direttamente sul blog però vedevo che ci perdevamo il 92% di traffico ogni volta quindi guardando l'impression analizzando il dato portavamo pochissimo dall'altra parte lo facciamo per un bel po' di tempo ne facciamo quattro in concomitanza quindi un per il pubblico che ti ho detto prima di Barbara Carmelita per un 18-24 soprattutto anche un 18-30 la Santarelli Lady Santa appena mamma di Jack quindi era mamma da pochi mesi o magari di un anno adesso non lo ricordo per precisione e quindi lei raccontava come ci si mette in forma quando si è incinta dopo aver partorito qual è l'approccio quando rimane incinta per come dire stimolare magari neomamme o future mamme cioè per portarle per avvicinarle a quel mondo tu Luca anni di che anni stiamo parlando qua penso che parliamo di 2012 ok sì sicuro parliamo di 2012 questo ne sono certo prima di Instagram prima degli influencer esatto lo ricordo perché uno sembra adesso scontato ma in quel tempo lì era un'intuizione pazzesca perché non lo faceva nessuno gli altri due blog sono con due uomini uno è Viviani vita da Iena 18-54 molto aperto quindi andavamo online sul blog con il giorno dopo del suo servizio quindi mostravamo come lui l'aveva costruito perché tutti vedono il servizio magari lui ha dormito in macchina tre giorni banalmente per fare un appostamento quindi spiegavamo tutto questo raccontavamo anche un po' le sue passioni cioè lui è uno che se gli dai due pezzi di legno in mano lo porti in montagna di sicuro fa una capanna esattamente quindi era molto affascinante raccontare anche quella parte quindi un po' do it yourself quell'uomo che voglio dire è un privilegiato ma fuori dalle telecamere un ragazzo normalissimo molto molto interessante e poi con Grido fratello di Jax quindi ai tempi faceva in gemelli diversi apriamo Widow Wonka vabbè Widow per chi capisce parla anche di quel mondo lì di Ganja esattamente e portiamo i primi gameplay prima che ci fossero i gameplay su YouTube in quel modo lì quindi cominciamo a giocare ai videogiochi portiamo il mondo extreme quindi lui con Axe si buttano in paracadute cioè portiamo tutto quel mondo lì quindi quattro blog con dei target molto precisi e con il social Twitter e poi dopo nei mesi successivi è arrivato Facebook per fare per portare fondamentalmente traffico dall'altra parte lì c'era già Webstar Channel avevi già avuto questo Webstar Channel l'ho creata qualche mese dopo a dicembre del 2012 quindi pochi mesi prima questi sono gli indizi che ti fanno dire apro mi butto su web oppure tenuto una scala diciamo che sono gli indizi che mi dicono molla tutto quel mondo lì compreso i personaggi con i blog perché nel 2009 firmo Matano quindi tre anni prima di quello di cui ti fai Frank Matano entra nella tua squadra come management esatto quindi lui faceva scherzi telefonici su YouTube entra come l'hai trovato è famosissimo lì come l'hai trovato l'ha trovato Eugenio è un ragazzo che me l'ha mostrato quindi io non l'ho trovato me l'ha mostrato lui e penso che Eugenio era molto motivato io gli dicevo ma tu non è vero che inizialmente non riusciva a capire no non capivo cioè nel senso dicevo come fa quel ragazzo a fare 100.000 views 100.000 ai tempi era una cosa incredibile tantissimo come fa questo ragazzo a fare 100.000 views essendo abituato alla tv essendo abituato a un prodotto audiovisivo curato vedere questo che faceva lo scherzo telefonico il padre telefonico il padre diceva ero tu cazzo è pronta la cena non tagliava niente e quindi mi sembrava paradossale quella roba super amatoriale ma ho capito che era l'amatoriale l'amatorialità che creava lo spirito di medesimazione quindi tutti dicevano anch'io posso essere lui non ha niente in più di me ma nel frattempo nel 2009 quindi Mattano facciamo il primo branded content in Italia con Telecom quindi il 12.54 lui faceva scherzi telefonici vendiamo una serialità di diversi scherzi a Telecom lui perculava gli operatori telefonici quindi era 12.54 buongiorno e lui tirava coglioni ovviamente essendo molto fair quindi non andavamo oltre la linea ma questo ha funzionato di brutto quindi perché quel cliente si è fidato di usare linguaggio grammatica editoriale di quel creator e di non imporgli la sua creatività perché il problema che ancora oggi abbiamo sempre meno è che le aziende vogliono fare anche la parte creativa l'azienda ti deve raccontare qual è l'obiettivo e tu devi tradurlo con il linguaggio del tuo mondo perché tu lo conosci quel mondo quindi è stato molto bello riuscire a lavorare in quel modo perché abbiamo creato una case molto interessante per tre anni quindi Mattano e quindi guardo tantissimo la rete tantissimo YouTube sperimento perché dico attenzione perché i personaggi della televisione sui social non ho molti più numeri di loro quindi voglio passare da un ingresso molto più dirompente ma invece non lo era per nulla quindi quando gli dico c'è lì hai capito che funzionava di più un ragazzo di Napoli Frank Matano che su web intendo che una Barbara Dursa sì perché comunque un ragazzo come Frank avrebbe ispirato tanti altri ragazzi ad essere come lui e tutti quanti i creator di oggi sono fan di creator di prima quindi invece i personaggi da quel punto di vista social non era il loro mondo loro cercavano ovviamente il loro pubblico era abituato come finestra principale a vedere Barbara Dursa su canale 5 il fatto di vederla anche su web su altri canali magari sì era un di più diciamo ma non non creava non sostituiva il momento televisivo in cui la guardo su canale 5 forse era questo l'avrebbe sostituito se ognuno di loro avesse mostrato molta vita e gossip il social il social è un modo di spiarti cioè quindi il fatto che tu metta nudo all'inizio uno dice posso vedere Jennifer Lopez 50 cent vedere quello che sta facendo che sta mangiando parlo dell'inizio dell'esordio dei social era formidabile per tutti dicevano wow io posso spiare le più grandi celebrità cioè quindi le testate di gossip tutto il resto dicevano un sacco di cazzate non tutti ma alcuni lì avevi la verità lo stavano dicendo loro quindi era era bello questo senza filtri ma poi serviva qualcosa in più quindi serviva che loro si mettessero a disposizione del loro pubblico per trasmettere qualcosa trasmettere a vogliere trasmettere il loro sapere il loro talento appunto non ti hanno seguito in questa cosa mi hanno seguito tanto all'inizio erano super motivati ed è stato bellissimo e questo è stata la mia formazione per il passo successivo ma quando ovviamente il mondo dei brand farli salire a bordo era complicato nel senso che non era assolutamente sdoganato ancora oggi nel 2020 c'è molta più come dicevo prima consapevolezza ma è sempre complicato quindi all'inizio il sacrificio che loro mettevano per creare dei contenuti non era commisurato al denaro che entrava perché era tutto da costruire cioè io tutti i giorni avevo un revival ripartivo da zero rispiegavo sempre le stesse cose ai clienti stava arrivando ma ci voleva del tempo e per far sì che succedesse bisognava anche lavorare con dei compromessi economici quindi ci sono state tante cose che hanno diciamo rallentato l'ingranaggio e ho detto ma io da tre anni con Frank c'è un mondo che non vede l'ora di cominciare a fare questa cosa e di cominciare a monetizzare il proprio talento e quindi ho switchato completamente su di loro quindi hai chiuso ho regalato i blog alle persone li ho chiamati tutti e quattro lo stesso giorno gli sono andata a trovarli tutti e quattro gli ho dato chiavi di accesso e ho detto è tutto vostro tutto quello che abbiamo creato tutti i contenuti tolgo solo le mie risorse che stipendiavo io come contratti di management anche quelli hai cancellati tutti con tutti i personaggi televisivi in quel caso ci ho impiegato più o meno una settimana o completamente concluso o drastico hai fatto sì nel senso che quella vita non mi rendeva più felice era un mondo era un momento dove era molto stressato quel mondo lì anche il mondo commerciale perché ne teneva ancora una parte del mondo nazional popolare i personaggi i locali le aziende non volevano più avere a che fare con loro perché a livello artistico duravano poco appunto come dicevamo prima tu fai una campagna la scatti deve uscire quando è uscita tu non sei più nessuno quindi quindi questa era la cosa che quindi c'erano c'era tanto capriccio cioè non avevo più quell'energia per fare il badante non dei professionisti di cui ho parlato prima ma di quegli altri e con i professionisti era sempre più complicato non mi volevo ritrovare a fare veramente le valigie di qualcuno nel senso che poi quando dici manager è una parola che fa figo ma tu sei un garzone cioè tu sei uno schiavetto perché tu devi sempre assecondare anche se io ho un carattere che impartisce disciplina perché come io devo essere professionale nei confronti di qualcuno cerco di insegnare a loro ad esserlo a loro volta nei confronti della terza persona per cui ci stiamo stiamo facendo un progetto però era tutto complicato non avevo più voglia come hanno reagito queste persone quando gli ho detto guardate signori io devo andare da un'altra parte voglio cambiare strada è stato semplice è stato complicato allora i professionisti quindi ho fatto alcuni nomi prima comunque sono persone che lavorano che hanno il loro accordo di quadro cioè non sono persone che aspettavano che li chiudessi il contratto dopo per campare quindi le reazioni sono state molto diverse tra quelle persone con i blog ovviamente nessuno era felice però hanno capito perché comunque avevo un bellissimo rapporto con loro quindi abbiamo fatto una conversazione molto matura adulta quindi anzi alcuni di loro mi hanno anche abbracciato per dirmi in bocca al lupo per quello che tu vuoi fare perché so che ti rende felice il passo successivo tutti gli altri ovviamente io cosa posso dirti si sono arrabbiati tutti perché ovviamente lì era completamente diverso loro magari erano più voglio usare dei termini molto diplomatici a volte faccio fatica dillo in francese che diventa sempre più carino diciamo che loro ovviamente aspettavano il contratto successivo e sicuramente mi hanno mi hanno raccontato loro negli anni non ho mai più voluto incontrare nessuno di quel mondo ancora oggi se incontro una persona o me la trovo di fronte devo salutare ma se la vedo da lontano cambio strada perché mi ha insegnato tanto ma a livello umano io sono una persona molto diversa sono una persona che ha dei valori una profondità completamente diversa quindi ho proprio sofferto ad assecondare tutti questi capricci per anni quindi quel mondo non mi manca ma incrociandone alcuni mi hanno spesso detto da quando tu non ci sei chiunque altro è arrivato dopo non era più la stessa cosa ma non mi tocca minimamente una cosa dicendo nel senso che non mi fa venire a lacrimucce ma quasi quasi ci ripenso anzi sono sempre felice per dire almeno sono positivi bella lì li saluto tranquilli almeno non non portano negatività e l'abbiamo chiusa al meglio quindi il tempo è sempre la miglior medicina però potrei parlarti ore del motivo per cui però l'abbiamo chiusa la cosa la cosa bella che appunto io non ti conosco quindi ti sto conoscendo adesso quindi ti ho ascoltato in silenzio con molto interesse mi sembra molto bello questa cosa di cercare valore cioè di dare cercare valore delle persone non a caso si chiamano creator le persone che adesso tu rappresenti e la mancanza di valore che ti davano queste persone quindi davano forse anche meno senso alla tua vita in generale a pagamento finanziario ma non c'era quella parte di vita molto più importante è lì che hai fatto l'ultimo switch di carriera su questo valore guarda hai intercettato la parola chiave il valore quindi io cerco il valore nelle persone ma è molto importante che le persone diano valore a me e alla squadra che tutti i giorni si prodiga per fare al meglio ed è stato proprio il secondo punto loro non davano minimamente valore a tutto quello che facevamo ed era così anche nell'animazione nel momento precedente quindi c'erano sempre troppi casi a volte alcuni quando sono pochi sono eccezioni quando cominciano a diventare tanti io vivo di entusiasmo di passione nel senso penso che sia la mia arma più forte e me l'hanno ce l'ho innata e quando quella cosa si affievolisce non c'è più è come l'amore con una donna quando sparisce non c'è più la reason why il motivo per cui tu darei tutto per quindi bello però dire quando mogli una ragazza guarda non ho più un reason why sarà più carino parliamo tecnico però quando ami una donna fai tanti sacrifici poi io sono una persona che con mia moglie ogni anno rifaccio il punto della situazione nel senso che per me vedere delle persone che stanno insieme per tutta la vita perché non vogliono creare un cattivo equilibrio con i figli o con la famiglia io non potrei vivere così nel senso che io fino al periodo di prima di WSC di Webstar Channel ho proprio sofferto nel fare tante volte delle scelte che non avrei mai voluto fare oggi io mi sento un uomo libero non ho più un cellulare da tre anni e mezzo io scelgo veramente ciò che mi rende felice non è il denaro il denaro è una conseguenza ma io scelgo la qualità della vita e con mia moglie ogni anno non le racconto ciò che non mi va bene di lei ogni anno le racconto come sto io e cosa mi piacerebbe fare in futuro dove vorrei concentrare il mio tempo le mie passioni e se collimano entrambe le nostre esigenze andiamo avanti se no senza litigare perché non c'è un tradimento ma c'è molto rispetto intellettuale nei confronti dell'altro e prenderemo una decisione matura e ci vorremmo bene rispetteremo per tutta la vita e proprio quando tu nascondi la verità che crei problemi più grandi io ho sempre preferito una una brutta verità piuttosto che una bella bugia perché è così che ho sempre costruito nella vita ed è ed è quello che sono riuscito a portare oggi all'interno della mia azienda odierna con il mio team interno e il mio team esterno che sono i creator ma per me non c'è differenza sono una cosa unica però vi lascio che mi incalzate con le domande no no la storia non saltare i pezzi la storia è molto più avvincente no allora Frank Matano sfanculi tutti della tv grande fratello eccetera e dirla così è un po' brutto no scusami ok era la sintesi rescindi contratti con ok Matano ce l'hai poi da lì come ti muovi immagino cerco di capire se ce ne sono altri come Frank Matano no cosa hai fatto in quel caso allora diciamo che ho continuato sempre dal 2009 a guardare ma a guardare sempre con l'occhio sinistro quando decido di chiudere dall'altra parte 2012 guardo in maniera compulsiva e tutta la ricerca la faccio in 15 giorni 15 giorni da solo col tuo team da solo il mio team non capiva niente di quel mondo perché il mio team lavorava sulla televisione quindi quando mi dicevano qual è il passo dopo Luca e il passo dopo è che lavoreremo sui creator su dei creativi su dei ragazzi della porta accanto in cui tutta Italia si immedesimerà ma tu mi stai dicendo che noi proponiamo alle aziende i ragazzi che dicono le parole c'è la cameretta ma sei suonato quindi questa era la frase più ricorrente noi andremo a fallire mi hanno lasciato più o meno tutti nel senso che le persone che lavoravano questo non ne parlo mai perché comunque ne ho sofferto però poi oggi ovviamente ne sono orgoglioso quando con la Luca Casarei Management da un punto di vista televisivo ho smesso era il primo anno in cui ho perso tantissimi soldi ho sempre guadagnato molto bene nella vita e quell'anno ho perso ho perso tanto ho perso 6-0 quindi quei 6-0 li ho dovuti prendere dei miei soldini personali e metterli perché non generava più business era grande fratello 12 così almeno abbiamo anche una una data e comprai tutto il cast del programma quindi facendo un accordo quadro con la casa di produzione e spendendo una cifra molto importante tantissimo tantissimo non solo nei soldi per comprare i cartellini uso un termine per chi ci ascolta esatto facendo un parallelismo col calcio ma anche per avere una squadra in azienda che si dedicasse a quel progetto e i clienti mi dicevano allora chi hai grande fratello lascia stare cambia discorso mi interessa quindi è stato un anno molto complicato hai puntato in parallelo facevo tutte le altre cose fortunatamente quindi hanno come dire mitigato un po' sì e quindi nulla in quel momento decido di smettere e prendo un altro ufficio io ero proprietario di un ufficio e per pagare tutto quello che in quel momento era il deficit che si era creato vendo anche il mio ufficio perché la marginalità l'avrei utilizzata per metterli sul tavolo perché non avrei mai mai nella mia vita potuto pensare solo per un secondo di pagare un giorno in ritardo uno stipendio perché quelle persone hanno famiglia cioè per me questo è tutto quindi ho fatto dei debiti con lo Stato errariali e quindi andando a rateizzare oggi è una cosa normale ma ai tempi era un'eccezione quindi mi concedono questa eccezione chiaramente se tu hai mezzo milione di debito con lo Stato ti costa un milione tra more interessi e tutto e quindi mi accomodo alla cassa per affrontare per pagare è stato un periodo molto difficile e prendo un altro ufficio in affitto e chiedo al proprietario di costruirmelo esattamente come era il mio ufficio di proprietà quindi di venire a prendere i materiali e loro stavano facendo questo non ho mai guardato io ho un pessimo rapporto con i soldi quindi non ho mai guardato non ho mai saputo quanto guadagnavo quanto perdevo so che è brutto dire una cosa del genere ma ho sempre lavorato proprio per la passione di farlo poi chiedevo a mio fratello che è sempre stato il mio amministrativo Luigi vorrei andare che ne so in vacanza lì me lo posso permettere sì sì te lo puoi permettere vai ho sempre fatto questo so che è folle oggi non sono più così perché non cioè nel senso che vivere blind è un po' pericoloso quindi mi mostro i conti mio fratello e quella sera realizzo che io non mi posso permettere neanche quel nuovo ufficio in affitto quindi vado dal proprietario e gli dico guardi mi scusi gli spiego la verità mi fa pagare una penale tre o sei mesi non lo ricordo e vado a lavorare da casa e porto la mia da solo eri quindi no non da solo all'inizio porto alcune persone del mio team quindi io ho due fratelli loro lavoravano da casa propria in Brianza e porto due persone le altre persone avevo dovuto poi separarmene quando tutto era andato male accompagnandole pagandogli anche dei mesi di stipendio cioè mi sono indebitato per far star bene gli altri perché non volevo che avessero problemi perché loro mi hanno dato tutto nella vita mi tengo due persone le porto a casa una di queste due dopo poco va via e quella storica che si chiama Serena che era la mia segretaria assistente ma era diventata molto brava una mattina mi dice ti devo parlare ti devo parlare non c'è bisogno di aggiungere altro e quindi se ne va quindi mi guarda negli occhi e mi dice non credo più in te secondo me falliremo e quindi vado via e mi ritrovo veramente da solo è stato un anno molto complicato un anno da solo sì è stato è stato un anno dove c'era in quell'anno c'era vendo il mio ufficio non prendo quello in affitto guardo i conti vado a rateizzare con Equitalia prendo più di un milione di euro dei miei soldi e li metto in azienda becco tanti insoluti quegli anni tutti insieme e non avevo mai vissuto un periodo così negativo non ero abituato nel senso che io sono stato un ragazzo fortunato l'ho detto prima sono nato in una famiglia molto ricca però ero un figlio molto ribelle nel senso che ero il più grande dei tre mio padre mi veniva spesso a prendere in commissariato per risse rubava i miei motorini quindi ero un figlio che non viveva la borghesia la odiavo perché c'erano due cose per cui i miei amici mi prendevano per il culo da piccolo perché ero ricco e perché ero italiano quindi mio padre aveva una Rolls Royce in quei tempi in cui ricordo questo fatto e mi viene a prendere la scuola quando ero piccolo e quello per me è stato tremendo quindi ho detto ti prego non lo farei mai più e se lo fai vai cinque vie più in là perché io mi vergogno e quindi quando ho vissuto nel mondo dei ricchi nelle vacanze con i miei genitori e vedevo i figli dei ricchi facevo fatica a portargli rispetto perché erano veramente degli sbruffoni e i nostri genitori mio padre ha sempre usato un termine che ci ha sempre educati nel vivere da bosco e da riviera vuol dire oggi mangi caviale e domani mangi un panino e godi nello stesso modo oggi siamo in aeroprivato domani vai in campeggio godi nello stesso modo e questa è stata una grande fortuna perché mi sono sempre riuscito ad adattare a qualsiasi momento della mia vita quindi adesso ho aperto una parentesi e mi sono perso quindi è stato un anno sei nel punto più basso della tua vita quindi non ho mai vissuto questo ma ne ho sentito parlare dagli altri e quando uno ti dice ho dei problemi è chiaro tutti i medesimi io sono sensibile anche se oggi cerco di corazzarmi un po' di più per buttarmi meno nei problemi negli altri essere più equilibrato perché poi se dai troppo ad una persona e non te lo chiede rimani infognato in un qualcosa che ti farà del male quindi tendenzialmente io sento parlare di problemi della vita a livello finanziario da altri li capisco ma non avendoli vissuti li capisco in una percentuale non totalitaria quando li vivo su di me io mi sono ritrovato a avere sempre un tenore di vita da ragazzo fortunato in quell'anno mi sono ritrovato a non avere neanche i soldi per pagare l'affitto ma non solo neanche la spesa quindi ha sempre fatto la spesa tu lì avevi già sposato con figli avevo una figlia una figlia piccola avevo una figlia piccola avevo una figlia che aveva in quel momento otto anni e quindi tendenzialmente è stato molto umiliante la prima volta che parlo di questa cosa quindi mia moglie faceva la spesa io davo a mia moglie che aveva smesso di lavorare uno stipendio tutti i mesi per quello che è la casa e ho chiesto io a lei di andare a fare la spesa l'ho fatto solo per andare nei discount andare in imposti più economici e poter permettermi di fare la spesa perché non mi andava a dispiegare quello che stavo vivendo cioè lei ovviamente lo sapeva ma non in modo così drastico lei mi avrebbe affiancato e lo ha fatto ma non volevo spaventarla perché non esisteva un punto più basso di quello quindi sono andato oltre quello che erano le mie finanze e quindi ero indebitato quindi mi vado a fare prestare dei soldi non mi era mai successo è sempre stato il contrario sempre prestato io dei soldi agli altri quando avevano bisogno e quindi chiedo dei prestiti a delle persone per me è stato un anno molto complicato in quell'anno c'era tutto quello di cui vi ho parlato tutto concentrato nello stesso momento mio padre era un grande leader carismatico che ha smesso di studiare in terza media e fondamentalmente a 18 anni va a fare la legione straniera dopo due anni e mezzo scappa dall'Algeria sparano nella schiena al suo compagno e lui riesce a fuggire torna in Italia dove abitava lui a Cesena e fondamentalmente va da un sarto firma delle Cambialis fa fare tre bei vestiti lui ha sempre giocato nel fatto di essere un playboy per fare business su una donna diresti che è una meretrice su un uomo invece dici che è un figo e lo so che è sbagliato ma è così va a Parigi e fondamentalmente conosce una donna di cui si innamora che diventa sua moglie e il padre di questa donna aveva la più grande azienda di abbigliamento da sport invernale tipo Colmar quindi mio padre si è sempre reinventato poi si è giocato tutto al Casino vado molto veloce ha fatto tre vite dove ha fatto sempre di più della vita precedente quindi ho sempre avuto questa cosa dentro di me e quindi a un certo punto vado da mia madre mio papà è morto nel 2004 vado da mia madre in quel momento molto buio di cui vi parlo le chiedo mia madre non vive a Milano e le chiedo se possiamo fare un weekend insieme io ho sempre avuto un rapporto con mia madre bello ma da fare un weekend insieme mi sentivo un po' in imbarazzo però lo facciamo e le faccio delle domande molto precise le dico ma il papà è mai andato in depressione lei mi racconta tutto quello che mio padre faceva nei momenti bui di bello e di brutto a quel punto torno a casa dopo il weekend e come la notte dopo l'all fashion mi sveglio la mattina dopo e esce Webstar Channel nel senso che quando ho raschiato il fondo e mi ha dato degli strumenti ma è riuscito a illuminarmi su delle cose sono ripartito quindi è un attimo che o va in depressione o ti rialzi non mi era mai successa la depressione però devo dire che una mia forza è sempre quella di rialzarmi quindi questo lo dicevo anche da piccolo quando ci scazzottavamo o mi finisci perché se mi rialzo dopo è un problema ma non nel senso che non ti mollo più quindi questo mi ha sempre aiutato essere un guerriere essere un combattente e mi ha permesso di essere in questo momento molto bello che sto vivendo adesso no è una storia incredibile veramente incredibile un sacco di coraggio un sacco di coraggio io torno a essere quello concreto ti svegli ok Webstar Channel computer aperto che faccio? la storia ovviamente continua quindi se vuoi sapere come è andata a finire la seconda parte dell'intervista con Luca è già online iscriviti al nostro canale